Eccoci qua in un altro appuntamento che riguarda la mindfulness. Questo video sarà molto molto breve ma molto intenso perché la mindfulness si basa anche sulla positività e sull'ottimismo. Ci sono tantissime ricerche che dicono che appunto una persona ottimista e positiva, una persona che vive meglio, ha meno problematiche fisiche e meno problematiche psichiche. Quindi come fare ad essere più positivi, più ottimisti? Innanzitutto guardando il bicchiere mezzo pieno, tuo. Quindi invece che dire che cosa c'è che non va in me, sposta l'attenzione invece su che cosa c'è che va in te, che cosa funziona in te, che cosa ti piace di te, quali sono stati gli episodi belli della tua vita, gli episodi in cui hai performato bene, ti sei comportato in modo appropriato, quindi sposta la tua attenzione non più sugli aspetti negativi, quindi che cosa non va in te, ma fatti proprio la domanda che cosa va in me, quali sono i miei punti di forza e focalizzati su questi questa settimana. Buona settimana a tutti!